Ciao a tutti, io sono Alex, ho deciso di realizzare questo filmato per mostrarvi la tecnica del mare realizzato col silicone. Io sto indossando un guanto di lattice che mi servirà appunto per mostrarvi la tecnica. Allora, gli ingredienti della ricetta sono silicone trasparente della Bostik, il suo costo è di circa 3 euro, alcol etilico, smalto trasparente, quello per unghie va benissimo, smalto di colore bianco, sempre quello per unghie, un barattolo di vernice bianca, acrilica, boccettini di pigmenti colorati, blu e verde, poi pennello, un bicchiere d'acqua, un tovagliolino di carta. In questo caso io mostrerò la tecnica su di un pezzo di legno. Allora, iniziamo col prendere un po' di vernice bianca e la stendiamo su tutta la zona dove vogliamo riprodurre appunto l'acqua o il mare. a questo punto prendo la boccettina di colore blu, l'agito faccio cadere qualche goccia direttamente sulla tavola sopra al colore bianco e inizio così a creare le sfumature del mare se il pennello è troppo carico prendi il tovagliolino è e inizio così a creare